Buongiorno, sono Roberto Masserini, responsabile della comunicazione Panasonic Italia. Parlare di Lumix come macchina fotografica, ma come prodotto che ci porta a fare anche degli ottimi filmati, vuol dire iniziare con raccontare che cosa significa Lumix. Lumix sta per luce, ovvero l'essenza della fotografia e dell'immagine di un filmato, mix delle migliore tecnologie Panasonic. Panasonic da sempre è leader nella produzione di macchine fotografiche, ma anche di camcorder e soprattutto di integrazione delle varie tecnologie. E' proprio da questa nostra esperienza che viene da molto lontano, Panasonic nasce nel 1918, che abbiamo progettato e costruito la Lumix GH2, un'ottima macchina fotografica, un sistema fotografico dotato di 14 lenti intercambiabili, ma soprattutto di una macchina che può fare ottimi filmati nel filmato Full HD. Quindi macchina fotografica, ma ottimi filmati con l'utilizzo di 14 ottiche intercambiabili.